Oh! Allora, aspetta. Allora, c'è una cosa molto importante. Signori, questa sera, no, stasera succede, no? Scusa. C'è da spostare Antonietta. Dove è Antonietta che si sta per sposare? Lasciamo tanto i muri, mi dicono, Antonietta, dove sei? Ha scappato? Antonietta. Oh, metti lo sacchetto di no. Ah, sta a vedere, Antonietta si sposa. Mi so con chi, c'è che è una mano. Allora, facciamo... Senti che mi devo fare questa rossa, Viola. Allora, devo fare la Viola, dai. Che dici? Che vuoi fare? Allora, facciamo poterci. Senti, poco pallati, non ci rilassiamo. Siamo piccolamente nelle ricerche speranone che si chiamano tanto. Possete farlo in giro, se vedete. Signori, signori, legge su un cesto sfinto. Che c'è, che... Che c'è?! C'è, che c'è! Che c'è, che c'è, che c'è? Che c'è, che c'è! Che c'è? Che, c'è! Che c'è! Che c'è! Che c'è, che c'è! Che c'è! Che c'è! Che c'è! Che c'è! Grazie. 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 Grazie.